Cari amici, sono Pai Ultimamente sto vedendo che il governo italiano per riattivare il consumo sta varando una serie di iniziative e incentivi per invocare agli risparmi in alberghi fino alla promozione del turismo A proposito, sapete come si dice in cinese consumo? In cinese si dice xiao-fei xiao, primo dono e fei, quarto dono insieme xiao-fei consumo Ci auguriamo davvero che con la situazione epidemica sotto controllo i consumatori ritornino quanto prima in negozio